Usa quel calco, usa quella resistenza, quella forza, quella forza che proviene dal tuo cuore, quella forza che proviene anche da quello a scopo, e a proposito di montagna, stringi, e poi non è una mazzagna, è il nostro bellissimo vulcane, la faccio ancora, per il mio, 8 minuti, abbiamo 60 secondi per raggiungere il mercato di più, assorbrirlo e crescere, la fine di questo minuto, proviamo a gestire il calco, attraverso i ferrami, e poi non so, attraverso i ferrami, E' quasi quasi quel tempo che ho messo prima adesso, qui, quando c'è rischio, ti metto più sicuro delle relazioni, del mio gesto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.